signori e signori abbiamo questo gruppo di amici che vengono secondo me vengono da molto 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 lontano ciao ragazzi da dove arrivate? Vermiglio! Vermiglio dal tonale fantastico tra l'altro con la con la divisa tipica utilizzata in questo periodo giusto? Sì esatto! Come va c'è un sottobosco sotto l'ascella? Questa l'ascella un attimo ecco qua abbiamo un leggero sottobosco così tipico e come ti chiami? Massimiliano! Massimiliano dal tonale direttamente ma sei venuto col Bob? No ma entrato col caretto dietro il furgone. Ah ti hanno trainato col carretto? Con gli scena autostrada. No bellissimo fammi vedere con gli scena metti il casco metti il casco ci sta? No è legato? Allora signori e signori dove è Dave guarda la posizione in autostrada di questo ragazzo ce l'abbiamo è che l'avete trainato vero ragazzi? Ecco mettiti lì vai 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 insieme ai tuoi amici che fai? Ti pieghi? No aspetta che fa? No ma di là! Girati di qua girati di lì di lì di lì ecco la posizione vai con la posizione che fai? Ah così era? Ma è ancora è ancora provato da questa cosa cioè tra l'altro a che velocità andavate in autostrada? Eh il 60 70 all'ora nei limiti pregare per arrivare pregare per arrivare tutto scintillante tra l'altro eh sempre vestito così? Da che ora è che sei vestito così? Dalle 4? Ah dalle 4? Dalle 4 mi sembra... Lo porta bene! Vieni tra qualche ora e ne riparliamo! Dovrà ballare anche così vero ora? Pura no! Sarà inavvicinabile secondo me! La sciarpa avete dimenticato la sciarpa ragazzi? E la sciarpa agli occhiali? Non abbiamo voluto uccidere più di tanto dai già così era... Lo scarpone manca eh tra l'altro Siamo stati dai siamo stati gentili! Tutto sommato gentili! Calzamaglia lei sopra le gioie le hai? Sì 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 sì! Ah ci sono le calzamaglie? Perfetto quindi il look e calzamaglia è tutto da sci? Esatto! E siamo che giorno di luglio? 21 luglio ragazzi! Esattamente! 21 luglio guardate quest'uomo! Cosa deve fare per sposarsi? Esatto! Perché tu sei innamoratissimo? Abbastanza! Abbastanza! Convizione perché a forza di fa scintilli in autostrada ti hai anche calato l'amore! Esatto! Cala tutto! Cala tutto! Quasi tutto dai! Anche chili qua! Anche chili! Anche chili! Perfetto ricordiamo il tuo nome? Max! Del tonale e lei si chiama? Jessica! Jessica! Quindi puoi proporle anche Jessica o famo strano eh? Esatto! Molto strano! Ti presenti così con il casco e la tuta da sci? Sì così mi licenzia subito! Ah ti licenzia? Hai il tuo capo? Sì! No! Ah ti licenzia? Mi licenzia e mi manda via da casa! Ah ma lì al tonale cosa fai il maestro di sci? Sì! Ah veramente? A tempo perso sì! Prova a fare il maestro di sci! Tra l'altro hai specializzato in spazzaneve tu giusto? Esatto! Mi fai il maestro di sci a spazzaneve? Sì! Ecco guardate guardate che mi fai la lezione un attimo! Sei troppo alto! Ah e sono così! Ok te la faccio così! Fantastico! Allora signore e signori se volete... Dai torna ai tuoi amici che ti evitano cramorosamente! Ragazzi ma lo evitate cramorosamente! Vi state allontanando cramorosamente! Non capisco perché! Non riesco a capire perché! Questo! Alza le mani! Sulle mani ragazzi! Ecco così! Guardate che bello! Guardate! Se volete farvi i capelli biondi sotto le ascelle e sulle mani! Tu vai sotto! Vai sotto di lì! Vai sotto di lì! Eccolo qua! Il sulle mani di Max da tonale e i suoi amici! Un applauso ragazzi! Un applauso! Bello bello bello! Piaciuta! Grande Max! Grazie! Grazie! Grazie!